buongiorno amiche e benvenute allora oggi realizziamo insieme un bracciale che è stato ideato da una nina daniela spirito in realtà ne ha fatti due bellissimi uno più bello dell'altro oggi faremo una delle due versioni vedete qui un po di materiale poi vi dirò tante cose perché altro materiale manca nel senso ora mai mi conoscete durante il lo svolgimento del progetto aggiungo tolgo modifico eccetera quindi innanzitutto partiamo con la nostra sigla e poi ci vediamo allora eccomi qui come prima andiamo a vedere tutto l'occorrente utilizzeremo il lumina 12 ma penso che utilizzeremo anche il lumina 9 o illumina 6 poi vedremo per fare insomma altre cose quindi li mettiamo tutti e due nello specifico utilizzerò il 151 considerate che potete anche utilizzare il lumina 9 però si fa prima con il lumina 12 a mio avviso questo ce l'ho in un altro colore poi devo andarlo a cercare del giusto colore utilizzeremo delle catene strass piccoline per abbellire utilizzeremo dei castoni io ne ho qui due due cristalli correlativi castoni perché a seconda di quello che di come mi verrà la lavorazione metterò uno piuttosto che che l'altro allora al momento li metto da parte poi ci serviranno delle coppette che ora questa non è la coppetta proprio più indicata cioè nel senso non l'amo particolarmente perché essendo che non ha il foro devo andare a mettere la colla l'ideale sarebbero le coppette come questa con il foro vedete io però ne ho una sola e ovviamente me ne servono due e ti pareva quindi ci arrangeremo insomma un modo lo troveremo abbellimenti vari bombe a mano e trick e track ma andiamo ad iniziare allora io mi scarto il mio lumina come sempre vado a scrivere lumina 12 colore 151 ovviamente di tessiland lumina di tessiland sul sito www.tessiland.com utilizzerò un uncinetto da se è perso quell'altro da due sempre miei morbidosi della clover che sono anticrampo sono anatomici e sono il meglio che c'è allora andiamo a svolgere il nostro lumina 12 ce ne lasciamo un pezzettino poi di modi per chiudere in realtà un tubolare perché andiamo a fare un tubolare ce ne sono tantissimi quindi man mano li vedremo allora io mi vado ad avviare 1 2 3 4 catenelle mi chiudo sulla prima con una maglia bassissima mi alzo con una catenella e poi noi semplicemente dovremmo andare a lavorare dentro ogni ogni maglia che si presenta esternamente quindi questa 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 all'inizio ovviamente saranno quattro quindi che fare come come riferimento del primo tra l'altro abbiamo il filo quindi sappiamo che siamo giunte a destinazione quindi mi vado a fare una maglia bassa una seconda maglia bassa una terza maglia bassa ed una quarta maglia bassa in realtà il tubolare non va affatto tipo maglia bassissima e si chiude va fatto sempre tutto di seguito ok mi continuo a lavorare in questo modo ripeto il riferimento c'ho questo so che che arriverò a questo punto e continuo per un altro paio di giri l'importante è andare ad inserire la maglia d'uncinetto nelle maglie che si presentano che poi man mano li vedrete le vedrete da tranquillamente da sole e continuate così se voi volete poi a un certo punto anche aumentare perché magari il tubolare vi sembra piccino ok potete tranquillamente farlo ovviamente ai primi giri quindi ad esempio io che vado a fare mi lavoro due maglie basse in una delle maglie non me lo raddoppio perché non lo voglio raddoppiare questa mi è scappata non voglio andare proprio a raddoppiare quindi qui me ne lavoro due qui però me ne lavoro una qui invece me ne vado a lavorare due qui me ne lavoro una qui me ne lavoro due qui me ne lavoro una in questa me ne lavoro due vedete come si è allargato anche anche troppo allora da adesso in poi io vado a lavorare una maglia bassa in ogni maglia che si presenta vedete di volta in volta cioè sono sono chiare le maglie si vedono tranquillamente vedete e qui ce n'è un'altra se lavorate strette sarà un bel problema io vi dico sempre allenatevi a lavorare normalmente se lavorate morbide sarà sicuramente più facile perché la maglia diciamo si vede e chiara sono tutte le maglie che trovate man mano eccole qua vedete e praticamente andate avanti così fino alla lunghezza che desiderate la nostra daniela aveva fatto nella lavorazione un nodo dove poi appoggiato appunto questo questo castone adesso vedete si vede come ho ho fatto l'aumento vedete sotto era più piccolo e sopra è più grande in questo modo io posso andare ad inserire qui piuttosto che utilizzare quella questa coppetta poi a prescindere molto è troppo grande per per la lavorazione oddio si premendola andava anche bene però ripeto non ne ho una sola quindi non ci posso fare nulla allora al momento tutto quello che c'è da fare è questo semplicemente maglie basse continuando a lavorare una maglia in ogni maglia che troviamo non le saltate perché allora bene se le saltate ve ne accorgete perché il tubolare non sarà più uniforme ma comincerà a stringere ad avere dei bozzi però ripeto non c'è bisogno di contare fatelo solo ai primi giri eventualmente utilizzate un marca punti per capire quando finite il giro ok semplicemente maglie basse vedete una dentro ogni maglia purtroppo c'è nel senso c'è poco da dire e andate avanti in questo modo ora io continuo poi vi dico a che lunghezza sono arrivata ok in modo tale che vi possiate regolare anche voi che ovviamente a seconda della misura del vostro polso anche se come vi ho sempre detto possiamo fare i bracciali regolabili utilizzando anellini per regolare appunto ogni volta la lunghezza allora io continuo ovviamente ci vediamo dopo e niente a tra poco allora nel frattempo che faccio il tubolare che non ho terminato vado a lavorare a fare un qualcosa per il castone allora voglio fare una cosa un po' diversa e che cosa ho fatto mi sto avviando ho avviato praticamente delle catenelle sto facendo una striscia fatta larga tre maglie basse quindi se voi fate come me io praticamente ho lavorato tre catenelle poi nella prima io sapete me ne lavoro sempre due sia nella parte alta che nella parte bassa oppure ne fate quattro e ovviamente poi cominciate dalla successiva l'importante è che facciate tre maglie basse oddio a seconda dell'altezza del vostro castone o dell'elemento che volete andare ad inserire allora io provo a fare questa cosa se poi il risultato non mi piace cambieremo faremo qualcosa di diverso altrimenti lasciamo questo ok allora io vado avanti e ci vediamo tra poco allora quando arriviamo all'altezza alla lunghezza che desideriamo ci fermiamo io mi vado a tagliare un bel pezzo di filo perché poi adesso ce l'andiamo a cucire quindi faccio passare il filo in modo tale che lo vado a fermare questo filo qui lo possiamo anche togliere tranquillamente lo mettiamo su un reto della lavorazione come volete ci andiamo a fare i nodini allora mi prendo una volta che ho chiuso tutto mi prendo la fascettina guardate bene dove sta il nodo mi ci vado a mettere un po' di colla ma giusto un po' e poi la vado ok vado a fare in questo modo mi prendo l'ago inserisco il filo e vado a cucire l'estremità le unisco ok questo poi me lo lascio così perché dopo me lo vado a cucire sul nostro bracciale allora la catena strass io non sono convintissima di metterla e al momento non la utilizzo allora tolgo tutto mi continuo a fare il tubolare e torno così vi dico anche più o meno a quale lunghezza dobbiamo fermarci allora proviamo a fare delle cose ossia per renderci anche conto di quanto fare lungo il nostro bracciale avendo poi a disposizione determinati materiali allora io ho fatto preso un chiodino ho fatto il gancetto perché quelli con la testa però gliela vado a togliere e vado a chiudere ok questo è il filo iniziale non mi occorre dove sono le forbici me lo vado a togliere potrei fare anche un nodino da qualche parte perché ripeto di modi per chiudere ce ne sono 2005 ma dipende dal materiale che avete anche voi a disposizione mi vado a mettere qualcuno di questi anellini che sono anellini in alluminio anodizzato faccio piano per non rovinarli in questo caso andava bene anche non fare la parte iniziale più stretta e andava bene allora mi vado ad inserire un anellino me ne inserisco un altro prendendo anche parte di questo ce la posso fare mi inserisco quest'altro e faccio la stessa cosa passo comunque attraverso gli altri due anellini e vado a chiudere allora qua devo togliere la testa del chiodino mi ci vado ad inserire questa pietra che però non mi fa impazzire il colore addio ho tutti i peli del ci metto questa che è un'agata vado a prendere gli altri anellini e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima ok questo è un anellino che trovate sul sito di tessiland 8 mm apro l'anellino così vado a fermare questi altri anelli che non passano e ci vado ad inserire anche questo qui ovviamente ci andrà questi anellini sarebbe stato l'ideale averli più piccini o a mettere una pietra più grande qui mi andrò ad inserire una chiusura che avevo preso l'avevo presa di questo colore perché comunque sta bene con il nostro con la nostra pietra prendo ed inserisco in questo modo ci possiamo regolare un pochino di più per l'altra parte che noi sappiamo che dobbiamo andare a fare anche un nodo ok che ovviamente mangerà un tot scusate ma quando faccio quando lavoro è sempre la scrivania è sempre molto impegnata quindi considerando che il nodo deve stare alla metà ok lo posso spostare un pochino in questo modo e continuo il bracciale anche un po' di più eventualmente insomma gestitevelo voi perché appunto ci servirà questa parte questo ovviamente perché io sto non avendo una coppetta con una coppetta avrei risparmiato tantissimo spazio quindi dovendo mettere per abbellimento queste cose mi mangia tanto altrimenti stavamo a questo punto e di conseguenza la parte lavorata ad uncinetto magari sarà un po' più cortina allora ecco qua tra l'altro il tubolare penso che potete farlo anche di meno maglie rispetto a quello che ho fatto io indicativamente sarà così ed ora vado a terminare poi vi dico comunque la lunghezza totale di tutto quanto ok a fra poco allora arrivata ad un certo punto mi vado a fermare perché ripeto come vi dicevo prima mettendo queste cose così mi si allunga parecchio il bracciale allora quando siamo arrivati a più o meno dove vogliamo fermarci cominciamo a fare delle diminuzioni quindi ci andiamo a chiudere due tre maglie insieme prendiamo e si chiudono le maglie insieme fino alla chiusura totale della di questa di questa lavorazione allora mi prendo il filo e vado a chiudere ora vediamo quanto è venuto ma ribadisco se voi utilizzate un metodo diverso che sia anche solo una coppetta basterà farlo cioè sarà proprio diversa la lavorazione questo arriva addirittura a 20 cm perché vi dico che la coppetta la preferisco perché in questo caso allora questo chiodino è troppo piccolo cosa avremmo dovuto fare allora sempre il gancio qui prendere in questo modo ok chiudere il gancio io ora non lo chiudo inserire la coppetta e poi qui chiudere con l'occhiolino e mettere una chiusura guardate di quanto spazio stiamo parlando in più rispetto a questa lavorazione ripeto io purtroppo ho una coppetta sola se no sarebbe stata perfetta quelle altre che ho sono di qualità scarsa sono vecchie ce le ho da secoli non mi ricordavo neanche di avere e di conseguenza non posso utilizzarla altrimenti con una coppetta il bracciale veniva la parte lavorata ad uncinetto sarebbe venuta molto molto più lunga invece purtroppo devo arrangiarmi in questo modo ah ovviamente andiamo a fare il nodo che poi fungerà da base per attaccare il nostro cristallo ok quindi andiamo mi vado a prendere gli altri anellini e poi ritorno allora mi inserisco gli anelli proviamo così se va bene così senza che li stiamo a togliere ovviamente mi riprendo un anellino poi magari ne mettiamo due così è regolabile la chiusura allora mi vado a tagliare sempre che comunque dobbiamo fare il nodino qui il cappietto con la chiusura regolabile dove ho messo il il castone mi è sparito il castone eccolo qua a questo punto ci andiamo a cucire il castone ovviamente con un po' di pazienza facciamo sotto e sopra nascondendo bene i fili perché se si vede non è troppo bello o potete eventualmente come si dice incollare volendolo potete anche incollare e poi vado a prendere la lavorazione che c'è intorno al castone diciamo una maglia sotto trovate voi il modo più comodo per voi ahia mi sono bucato il dito ecco che sia ripeto abbastanza nascosto penso che sia più adatto un ago normale come al solito che io figuriamoci se me lo sono ben preso allora uscite sempre vicino al castone e poi ovviamente vi come si dice vi ve lo posizionate come vi è più comodo ecco ecco qua allora ho cucito tutto quanto per bene ovviamente nella parte di sotto mi vado a fare i miei soliti nodini me ne faccio un paio ecco qui e taglio il filo devo dire che è molto molto bellino stavo pensando di mettere la catena strass non sopra ma sotto e mi sa che vado a fare così ovviamente dovrò inserire la colla perché io a mano non ce la faccio proprio non ho questa pazienza e quindi andrò di colla e vado a mettere la catena tutto intorno allora io vabbè l'operazione è quella sperando di non sbagliare mi vado ad appoggiare un filo di colla lungo tutta la parte che vado poi ad utilizzare anche un po' lungo la diciamo la parte della lavorazione proprio del rialzo per intenderci non ho messo il tappetino il fazzoletto e siccome non so quanto verrà lunga faccio in questo modo ok ho riperso le pinzette ecco qua tutti i peli del feltro che è una meraviglia allora io lo voglio far capitare piatta cioè che guardi per sopra ecco magari il nodo doveva essere un po' più sporgente questo è un lavoro da fare piano piano con minuzia che non è per i tutorial non è il massimo perché ovviamente i tutorial hanno altre tempistiche diciamo che bene o male ci siamo poi voi fate lo ripeto con tutta calma belle tranquille il risultato sicuramente sarà migliore niente c'ho i peli del feltro che stanno da tutte le parti allora ora mi vado a tagliare la catena cosa che non ho fatto prima ecco qua poi ovviamente dobbiamo aspettare che asciughi un po' la colla in modo tale che tutto resti fermo però è molto molto bella bello è un bracciale indossato fa la sua bella figura allora è venuto forse più corto di quello che pensavo devo dire la verità come lunghezza totale parliamo di ovviamente poi la catena diventa regolabile quindi io vado da qui a qui compreso il moschettone un 17 quindi è per un polso piccino eventualmente mi vado poi ad inserire altri anellini ovviamente per allungare eventualmente vi mettete un come si dice un una pietra un elemento nell'ultimo anellino in modo tale che andate a fare anche una decorazione io adesso non ho il tempo materiale perché si è fatta anche una certa e insomma questo è il risultato finale sicuramente quello di Daniela è molto più bello e vedete che a volte fare le prove è essenziale io questo qui ho preso a occhio ho fatto e la mano essendo diversa il risultato anche è diverso penso che mi andrò ad aggiungere qualche anellino di questi qui perché vedo che c'è un po' di spazio e niente questa ragazza è la lavorazione poi vi metto anche la foto di quello di Daniela spero che vi piaccia che comunque da questo potrete prendere spunto questo è il retro con il nodo spero che possiate prendere spunto per fare anche altre cose allora io vi ringrazio e ci vediamo lunedì prossimo con un altro tutorial ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.